L'estate 2013 stiamo proponendo dei nuovi servizi ai nostri clienti. In questo salone stiamo già in anticipo con i tempi, però avete visto già su tutti i giornali e i mood del momento il nuovo rosa di tendenza. Le donne vogliono colori molto naturali, colori pastello, colori che sono molti sfaccettati, ma nello stesso tempo devono essere brillanti, personali e fatti su misura sul loro incarnato. Siamo oggi padroni del colore, usando dei prodotti appropriati che oggi ci permettono la nostra tecnologia, riusciamo ad ottenere questi risultati rendendoli così molto naturali. Per quanto riguarda il momento di tendenza come tagli, sono tagli estremamente facili da asciugare, molto molto naturali, lunghezza sulle spalle, onde morbide. La piastra l'abbiamo abbandonata perché ormai la donna, la ragazza giovane ama asciugature molto semplici. Infatti se guardiamo sulle nostre riviste del momento abbiamo colorazioni che sembrano non più tinte marcate, ma colori molto simili alla terra. Poi abbiamo addirittura questa novità di quest'estate 2013 che è l'arpeggio, un colore molto sfaccettato con diverse colorazioni che si vanno ad intersecare come se fossero degli arpeggi. Arpeggio deriva da arpa e l'innovatore è stato il nostro collega Marco Todaro che in questo caso mi ha dato la possibilità di poter esprimere anche nel mio salone questa tendenza che va tanto in bocca. Stiamo preparando le nostre clienti pronti per l'esposizione al sole. I tagli, tagli semplicissimi come ho detto prima, asciugature molto naturali e niente di tutto ciò, anche perché la grintella che appare da noi e viene da noi chiede che non abbia vincoli dal parrucchiere. La crisi oggi non ci sta colpendo perché la bellezza non va mai in crisi se nel nostro settore lavoriamo con professionalità. La consumatrice sa perfettamente quello che vuole e oggi non bisogna più improvvisarsi e essere approssimativi ma dare il meglio di noi stessi mantenendosi sempre all'avanguardia e proponendo cose sempre nuove. Grazie a tutti!